il mare è il nostro più grande alleato insieme abbiamo vinto tante sfide e ora è arrivato il momento di aiutarlo perché ha bisogno del supporto di tutti noi ogni minuto nell'oceano vengono rilasciate abbastanza rifiuti di plastica per riempire la metà della torre di pisa e pensate che a questo si aggiungono anche le altre tipologie di marine litter anticipo già la domanda si possiamo fare qualcosa e lo schema è già chiaro con ojire abbiamo intrapreso una grande sfida di evitare l'oceano e questo è recuperare oltre 6 mila chili di marine litter come con l'aiuto di un team che come noi vive tutti i giorni in mare i pescatori ora vi spiego nel dettaglio loro ogni giorno escono a pesca e possono raccoglierlo o se no ci sono proprio le giornate dedicate dove escono fuori solo per quello rientrano a terra pesano smistano o smaltiscono nei appositi contenitori o creano dei nuovi prodotti impegno grande volontà tenacia solo così riusciremo a proteggere il mare il gioco di squadra è fondamentale e ora che abbiamo capito la parte teorica chi è pronto a uscire fuori con i pescatori a farlo in pratica sono pronto